Se credi in Gesù e sei nato di nuovo, tu sei una nuova creazione. Ciao, sono Cristian Morano e in questo nuovo video voglio parlarti della nuova creazione. Quando una persona nasce di nuovo, grazie alla fede, al sacrificio compiuto di Gesù sulla croce, grazie anche alla potenza dello Spirito Santo, diventa una nuova creazione. E diventa uno con Gesù. Questa è una realtà che è stata resa possibile duemila anni fa, da Gesù, quando è morto sulla croce. Quindi se sei nato di nuovo, la tua natura di peccato e il tuo uomo vecchio sono sparite, perché l'uomo vecchio è morto con lui sulla croce. Tu come figlio di Dio sei la giustizia di Dio, sei un santo agli occhi di Dio. E questo non è per nostra forza, non è per nostra grazia, ma è soltanto per merito di Gesù. E Gesù non è in realtà venuto a fissare né a giustare nessuno, ma è venuto in realtà a ucciderti, a farti risorgere con lui. E attraverso la sua morte, la sua risurrezione, noi abbiamo avuto un'unione mistica con lui, nel quale siamo stati crocifissi con lui e siamo stati risorti con lui e in lui. Di fatti Paolo, al capitolo 2 della lettera ai Galati, al verso 20, dice Io sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E quella vita che ora vivo nella carne, la vivo nella fede del figlio di Dio che mi ha amato e ha dato se stesso per me. E riflettendo, ogni sforzo che facciamo per raggiungere l'unione intima con Cristo porta ad un'alienazione della grazia. E' come dire che cerchiamo di raggiungere il divino, di raggiungere Dio con la propria giustizia, con i propri sforzi, ma questo non è il Vangelo di Gesù Cristo. Il sacrificio di Gesù è perfetto ed è un collante tra l'uomo e Dio. E non ci sono altre vie per sperimentare l'autentico sopranaturale divino, né per vivere nella reale libertà dei figli di Dio. Quindi, se tu sei morto sulla croce con lui, la tua natura di peccato è stata completamente rimossa perché il cosiddetto uomo vecchio in te è morto e con lui è morto tutto ciò che apparteneva alla sua natura di peccato. Il tuo nuovo io è completamente unito con Cristo, santo, giusto, innocente e puro. Se tu pensi che sei un peccatore, personalmente credo che non credi alla verità del Vangelo e anche alla nuova creazione. Certamente ognuno di noi ha ancora pensieri, desideri negativi, nel quale verranno sempre, ma è la nostra responsabilità non accordarsi con quei pensieri, ma in realtà accordarsi con la verità, accordarsi con la nostra nuova creazione. Paolo, una lettera ai Colossesi, dice che siamo stati riscossi dalla potestà delle tenebre, siamo stati trasportati nel regno di Dio e siamo stati risuscitati con lui e sempre con lui ci ha fatto sedere nei luoghi celesti. Quindi noi siamo qua sulla terra, ma siamo anche seduti nei luoghi celesti. E questo è scritto una lettera agli Efesini. Ed è un'ulteriore garanzia della redenzione e della nuova creazione, della nostra nuova identità, perché alla fine non potremo essere seduti spiritualmente nei luoghi celesti, avere una posizione di autorità e di santità se siamo peccatori. Quindi questa è una grande rivelazione che può trasformare la tua vita e farti vivere da figlio di Dio libero. Ed è fondamentale che noi abbiamo questa rivelazione, affinché possiamo camminare qua sulla terra portando il regno di Dio, distruggendo le opere di Satana e vivendo nella nostra totale libertà. Se ti è piaciuto questo video, metti un mi piace, condividilo e iscriviti al mio canale. God bless you!